a che bellezza oggi mi sono divertito voglio vi giuro abbiamo siamo continuando il nostro giro in calabria per la quarta edizione di parliamoci chiaro la trasmissione più amata dai calabresi senza offesa e oggi abbiamo realizzato due belle puntatelle a badolato mi sono proprio scialato sono scialato perché abbiamo incontrato belle persone brave persone soprattutto e poi siamo trovati bene anche dal punto di vista climatico perché è bella giornata di sole e poi naturalmente anche qui siamo venuti e diciamo che fate sempre ti vediamo in televisione sempre mangi che vuoi camparti d'aria? no poi quello che dice ti ho visto lì ti mangiare perché tu campi d'aria no compa tu non campi d'aria e quindi stavo dicendo abbiamo degustato davvero due piatti straordinari voglio che hai mangiato i scialatelli con la carne salata anche la che smontano giù tenendo sotto sale si conserva e poi fave e frittole ma tu immaginate che venivi al mare e poti mangiare fave e frittole straordinari vabbè grazie agli amici di Badolato grazie alla prologo di Badolato Pietro e ma ti ricordi i nomi? e Guerino Guerino è una guerra comunque dove va a Busca? una cosa seguiteci sul 13 e poi in tutto il mondo in diretta streaming su www.videocalabria.tv parliamoci chiaro ma veramente un po' più scuro grazie a tutti Grazie a tutti.